Sono Nicola Ranieri e faccio il collaboratore scolastico presso l'Istituto Omnicomprensivo Ciampoli Spaventa di Atessa. Quando sono arrivato qua nel 2006 l'ambiente era asettico, freddo, le aule erano tutte bianche, l'ingresso sembrava quello di un ospedale. Poi via via col passare del tempo ho cominciato a sondare un attimino il territorio e coinvolgere i ragazzi nel rendere un po' più accogliente l'ambiente. Quindi abbiamo cominciato a pitturare delle classi piano piano e poi nel 2014, nel periodo di Natale, io stesso ho portato da casa un bidoncino di colore e ho cominciato a pitturare degli ambienti qui all'ingresso. Ho deciso di dare un tocco di colore alla scuola perché il discorso della freddezza si toglie, quindi il ragazzo quando entra in un ambiente colorato vive meglio, si mette a suo agio. Anche il semplice utente quando arriva vede un biglietto da visita molto colorato e rompe quel front di distacco tra una freddezza di un muro bianco e un colore che praticamente può essere il meccanismo, quindi l'anello di congiunzione, tra un ambiente cordiale e accogliente allo stesso tempo. Mentre stavo pitturando il piano del centralino con il bidoncino di colore che ho portato da casa, casualmente quel giorno venne il direttore della BCC, nonché presidente del consiglio di istituto della scuola, che dopo aver visto ciò che stavamo realizzando dal niente ha sposato subito la causa e ha contribuito col fornirci il colore, fornisci tutto il materiale. Poi dirò di più, ci ha arredato l'ingresso con degli arredi, quindi delle sedie, delle librerie, gli arredi tolti dalle varie filiali ce le ha donate, quindi praticamente si è instaurato questo discorso di collaborazione dal niente e abbiamo creato una scuola molto più accogliente e molto più consona forse alle esigenze del momento. BCC è la banca del territorio che aiuta a rendere più bello il territorio in cui viviamo. Grazie.